Tre punti pesanti, quelli conquistati dalla Miternina nel 28esimo turno di eccellenza. I giallorossi superano 1-0 il capistrello e a sette turni dal termine si portano a sei lunghezze dal quinto-ultimo posto. Uomo copertina di giornata, Mino, Fascecchia, su alla rete, balsa il bottino pieno. Iodice e Angelone optano per un 4-3-3. Tra i locali, il già citato Fascecchia agisce da falso 9, in mediana, e Tuzia a dirigere le operazioni. Sulla fronte rovetano, forzano a metà campo garantito dal duo Panecasio ed Edoardo De Meis. Aquino, Pollino e Guerra, terminali offensivi. Fischietto in bocca per Varanese di Chieti. Minuto 7, segnale di presenza a Miternina, botta a Lucchetti, Gentileschi c'è. Diciasettesimo, siamo dall'altra parte, Guerra al tiro, facile per Rossetti. Iodice e Angelone, maestri della tattica, si annulano a vicenda, così che la prima frazione scivola senza sussulti. Nella ripresa torna il segnale GPS della gara ed è subito capistrello. Edoardo De Meis dalla bandierina, Antonelli decolla, palla in out. Il minuto 13, spacca in due la gara. Facecchia entra in collisione con Giacomo Fantauzzi. Per Varanese è calcio di rigore. Dagli 11 metri, lo stesso attaccante pugliese va a scucire il parziale rammendo di Gentileschi ed è 1-0. Vettiseiesimo, reazione capistrello. Pollino apre il fuoco, Rossetti va giù e blocca. Trentaquattresimo, rovetani ad un millimetro dal bersaglio grosso. Diagonale velenoso di guerra. Rossetti ha l'attito giusto sulla ribattuta di Francesca Antonio Mandallato a porta sguarnita. Da qui alla fine non si registrano altre emozioni. La gara va in archivio così. Negli spogliatoi ascoltiamo il tecnico della miternina, Vincenzo Angelone, e quello del capistrello, Fabio Iodice. Oggi era difficile per noi se non mettevamo in campo l'attenzione e la determinazione di questo tipo e quindi soffrivamo su ogni pallone era difficile portare a casa la vittoria. Siamo stati bravi e fortunati a farlo. Prendiamo questi tre punti e aspettiamo fiduciosi le ultime sei partite che mancano perché stiamo sempre lì sotto e quindi bisogna ancora lavorare tanto e lottare tanto per raggiungere la posizione o quantomeno... Ma noi se ci mettiamo un po' di cattiveria la fortuna è stata che abbiamo fatto 43 punti, se no stavamo in basso come le altre squadre. Quindi abbiamo fatto i punti prima, adesso non abbiamo fatto male oggi a livello di squadra, però non abbiamo quella cattiveria con la voglia di raggiungere un obiettivo che per capistrello sarebbe dello storico. Quindi se non ci mettiamo quella determinazione per vincere le partite cattiveria non le vince. Al di là che oggi abbiamo creato penso 5-6 palle e golle nitide, quindi poi loro sono stati bravi in un episodio sul calcio di rigore che lo voglio pure rivedere per quanto riguarda il rigore. Quindi non sono neanche convinto che era rigore.